Dopo tre mesi dall'attentato incendiario che ha danneggiato i locali della ditta di Rodolfo Guayana, il presidente della regione, Salvatore Guffaro, ha firmato l'atto di consegna del padiglione ex Imera all'imprenditore. Per Alessandro Albanese, presidente del Consorzio ASI, si tratta di un risultato importante perché sono state superate le lentezze della burocrazia. È un esempio che quando si vuole ha continuato, sia in grado di dare delle risposte certe ed immediate alle imprese. Ora bisogna fare un salto di qualità, far sì che le misure eccezionali che ci hanno permesso di ottimizzare del 90% i tempi diventino la normalità. Soddisfatto anche Nino Salerno, presidente di Confindustria Palermo. Guayana da oggi può iniziare a tracciare, ha detto, il nuovo percorso della sua azienda. Abbiamo lavorato tutti, regione, provincia, comuni, ASI e Confindustria, per ottenere un obiettivo comune. È un segnale positivo per tutta l'imprenditoria palermitana e siciliana. Il Comitato Addio Pizza ha assicurato che vigilerà finché la ditta Guayana riprenda l'attività nel più breve tempo possibile. Ci sono infatti ancora nodi da sciogliere, urbanistici, giuridici ed economici. Ed auspica che la Regione si faccia promotrice di una legge di carattere generale che regoli i casi come questo.